Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti. Da quando che non assaggiamo le cose, perché ci siamo impegnati a fare altro nel canale? Mia sorella è partita a fare la prostituta, è partita per un viaggio di piacere anale, e di piacere suo fisico, ovvero prima di Natale, perché se scopi a Capodanno, scopi tutto l'anno, quindi lei vuole seguire questa tradizione, e quindi lei parte prima di Natale. E quindi vi presento mia sorella per chi non la conosce, stiamo vedendo qua un sacco di iscritti sull'anno che dicono ma chi è questa Befana? Ah grazie, la Befana è passante. Questa è mia sorella. Oggi mia sorella, a parte i vibratori che si è comprata, illuminanti, ha portato delle cose da mangiare. Faccia vedere un po' il repertorio, cosa ha preso. C'è un po' di dolce, c'è un po' di salto, c'è un po' di penne, no, quella non è la tenata ordine per te. Faccia vedere. Prima è salato? Prima è salato, poi poi. Allora, oggi abbiamo la digitata. Ciao a tutti. Questa sarebbe sale aceto. Come sale aceto? Che è scritto? Aceto. Già da permettere che a me i lace mi fanno cagare in tutti i tipi di gusti possibili. Ah, e questo? Non lo so. Ma questo ho trovato io. Questo è un nuovo gusto. Viva San Carlo, vai! Senti, questa è la novità. Viva i Pringles, non ste cagate. Sale aceto. Sale aceto. Amore. E se la devo provare con questo Pringles? No. Ah, no, vi proviamo. Metto? Metto, metto. Due. Se lo metto un baranghiale. Ma che è buono? Aceto si sente forte. Mamma mia, che cazzo è per pulire i piatti sto qua? Tutto sei? No, mamma. Si sente, mi piace l'aceto. Buonissima. Che schifo. Mamma mia, è forte. Mi sento aceto socca. Ma questo qua che cazzo è per strurare il cesto lo posso notare? Non c'è male. Mi fanno schifo, c'è proprio quell'amarostico, un cazzo acido, porca puttana, che se ti mangi un sacco, il fego ti si brucia la stessa sera. Ma questo è per strurare un cesto lo posso notare queste patatine. Ma a me piace l'aceto. Orribili. Mamma mia. A me l'aceto non piace, però questo qua non so. Ma lo faccio a assodire la mia mamma. Assaggia mamma. È aceto. Ora mia mamma è cagata. Sono patatina d'aceto. Sono orribili. Orribili. Dammi qua. Dammi qua, chi è me? Ma che cazzo vuoi? Ma un po' di delicatezza. Ma per assaggiare qualcosa di buono. Aspetta. Messo quest'altro. Patatina e sale marino. Ah, questo è per la dieta. Ma una cosa normale la potevi portare. Ma una, una normale. E quant'è la mia mamma? Guarda, la povera mia mamma sta buttando pure l'anima in questo momento. Ha perso due anni di vita. Esattamente. Se vuole la patatina. Che schifo. No, sono i gusti particolarmente. Io ho scutato. Ma dove sono? Dall'aspetto sono... Guarda. Dall'aspetto sono carine. Sì, io. Venga. Grazie. Questa qua, siccome sono buone, non è meglio l'indoglio. Posso dire la mia? No, sono un po' di... No, sono mia. La pappina del bambino. Il semolino con la roba là. Facci caso. È buono. Sembra, è una cosa... Questo è buono pure per il bambino. Si squaglia in bocca. L'avete notato? Però... Sì. È un'avventura però. Ma bene. Se ci vuole uno sprizzo o qualcosa. Ma se ne ho portato tutto il semolino. In realtà per il mio bello, l'acqua rizzando in merda. Non lo so, voglio qualche cosa bella. Ok, a presto che cosa abbiamo? Ah, questa è una cosa vegana. Che cos'hanno? Vegano. Ho detto. Sono padrotti di garota. Non fritti senza cuore. Nella San Carlo. Sono per vegani. Vabbè, può piacere... E poi il panno schiacciato perché lo hai portato in palizia. Non lo devi portare in culo. Ma secondo te, ma che domanda hai una palizia? Perché lo devi schiacciare. Mettila. Ma che sussurro, cosa guarda? Fogli vedere cosa è una passione. Cosa sono? I cosi del gatto dietetico. Che cos'è? Ma dai, ma che cosa... Che roba hai portato? Ma... No, ma io... No, tutti secchi. Cazzo, se ti mangi sta roba... Cagli, cemento armato. Ti spacchi l'ano. Buona? Com'è? Davvero tu non te lo spacchi perché già ce l'hai spaccato. Ma dai! A me piacciono. Ma ragazzi, ma che cos'è sta? Ma è una cosa buona, dov'è? Non so. Il savorio è buono, è una bella zuppa di rendicchie. C'è una cosa semplice, naturali. Non è giacquano. E vanno scritto. Poi di mucca. Come tutto il resto del... Poi di mucca. Allora... Non c'è una cosa salata. Penso che i nostri mezzi saranno buoni. Palline non so di che cosa sono. Dove pensi il formaggio. Che giapponese, cose americane. Un cito. Dove pensi una cosa americana. Un cinesi. Che pezzo non so di questi. Un cinesi che fatti tu i cinesi. Dammi i tre pallini. Non c'è una cosa di tutto, bollo. Non c'è male. Queste qua me le prendo sempre io. Tutto buono. E' un'altra legge cacchia. Grazie. Com'è? Un po' meglio. E' bello, formaggio e bacon. Formaggio e bacon? Non è male, non è male. Qua davanti a un bel film ci sta. Passiamo a un'altra cosa dolce. Non lo so che cosa è portato. No, passiamo ai dolci. Passiamo ai dolci. Un'altra cosa dolce perché mi sto accompagnando. Queste cacate. Allora, passiamo questa qua. E' sette minuti. Fichi e noci. Una fica. Ah! Buona proprio a Dracula. Eh. Fichi e noci. Il padre e lo spirito santo. Sono curioso di questi che mi hanno messaggiato. Perché la cacca non si taglia. Perdonatemi per quello che sto a fare. No. Maronna. Molto elegante. Perdonatemi, lo scarico di questo schifo. Allora, sono pacchettini, fratello. Prendene uno. Quello siamo consigillati. Che belli. Ah, brillo. Che cosa? Brillo. Ma che carini. Guardate. Grazie. Sono sigillati. Mmm, che caucci. Guarda, per vedere la qualità. Che gusto, eh? E noci? Eh. Fichi e noci? E' la generale che ci ha fatto il marino. Ah, non è mossa. No. Girate un po'. Ecco, vedi. Questo era buono per Natale a mangiarlo. Buonissima. Ma, qua non lo vedi. Mmm. Ti sembra proprio il figo. Mmm, mmm. Buonissimo. Mi piace la figa. Ma guarda, io c'è da rifici. Questo è super golosissimo. Buonissimo. Grandifico, fresco, buono. Perché ci sono i figli, ci sono due, i sicchi. Questo è buonissimo. Come il padre di un vecchio. Qua si sente la noce a pezzi, ben grossa. Mmm. Buono. Tavolose. Mmm. Buono. Mmm. Assessiamo quello al tuo sapore, l'ultimo quello. Non mi ammette un po' l'altro. Però mi ha andato giù. Ci vuole una vita. Non è vero. Ma io che tu dico, non ho avuto neanche una volta. Mmm. Allora. L'altro cosa? Non si beve. Ah, mandorle. No, no. Mandorle. Mandorle. Ricciarelli a cacao. Sono una novità. Perché erano i ricciarelli quelli nuovi. Sono nuovi a cacao. Quelli erano normali, semplici. Questi qua li ho presi perché sono a cacao. Non c'è il cocco, vero? No, no, no. Che cocco a me non mi piace. Tutta la bella. Che cimbra il cocco. Il cocco c'è il tutto. Ah. Il tutto. Peggio che questi saranno anche confezionati. Andiamo. Ah, sono fatti bene. Grazie. Mi prendo un altro. E lo mettiamo in legge. Ogni pacchetto è diverso da un lato. Diciamo, un po'. Si distingue, no? Che te lo scrive. Cosa c'è o meno. E' come uno dice, guarda io. E' morbidissimo. Sì, c'è. E' morbido. E poi sono anche belli grossi. Guarda come sono. Guarda che carini. Sono anche belli grossi. Di solito fanno vedere che sono piccoli, ma sono belli grossi. Perché di solito nella foto ti fai vedere che sono. Ma buoni questi. Sì. Ma questi me li posso io. Oh, questi sono buoni. Dove li ha comprati? A Conad. Di Rimi. Ma c'è le mandorle. Certo. Ci sei arrivata adesso? Perché ti fanno uno schifo? Sei facilità a te? Mi piace a me le mandorle. Una cosa che mi stava piace. Per il senso ti sto pure la mandorle. No, perché a me? Non so tanto che sto mandorle. Non ci ho penno, la vedo, non ci mi sono lì. A voi. Non posso inviare la mandorle. Assaggiamo l'ultimo. Assaggiamo. Sono bene. Sono molto deluso. L'altra volta che sei tornata, mi ha portato cose migliori a portare. Che c'è stai palline che mi hai fatto alcune. Ma dai. E' sì, mi sono rimasta la mia. E' quelle? E' quelle che stanno... Di tristezza. Non te le mangiare. Ma scusa, te le mangiare il formaggio con... Questi sono cioccolato fondente. Sono dei dini in sfoglie. Cioccolato fondente. Bene. Andiamo. Che c'è l'Ivan. Che tristezza. Samento. È bello che mi ha rotto i coglioni. Ah, facciamo il video. Facciamo io, sono venuta. Così, colà. Non mi piace. Non mi piace. A questi casi, diciamo, non sono compressionate. Quindi, vieni. E così, nichi su. Vieni, diciamo che non è più grossi. Grazie. Ma... Che mica ridi che sono carossi. Ti piacciono? No. Questi mi hanno più rossi da me. No, no, no. Ma un pochino, guarda. Sono buone. Non c'è mai. Ricordo un po' la cioccolata di sopra, di tipo i toko, sembra. Eh, sì. A me piacevano i toko. Ti piacevano i toko? No. No. Ma sono il dublo. No, perché ti piaceva doppia per la reazione a te. Guarda. Con le nocciole. Adesso ne ho tre, con il dublo, non due. Per il dublo ho fatto le nocciole. Ah, per le nocciole. Non c'è mai. Non c'è mai. No, non ci sono più. No, non ci sono. No, i tronchi. No, i tronchi. I duplo. Con le nocciole di dentro. Niente, ragazzi. Se mi vedete così, che tristezza. Ora metterò casomai qualcosa di cibo. Se qualcuno è interessato, dice sai, io ti voglio mandare qualcosa da assaggiare, no? Per fare i video. Ora mettono nella wishlist alcune cose da mangiare. Orientali, minchiate, merda. La patatina più piccante al mondo. Metto angli. Messicana, tammatico. Ecco. E chi vuole offrirci questi passi, questi assaggi, va a morire lui. Ecco. Li ordina. Almeno io posso attirare sulla wishlist anche se volete arrivare a qualche film da recensire, come sempre. E niente, hai detto questo. No, per me sei deluso. No, per me sto male proprio. Sei una delusione. Ma ci posso fare? Io ho pensato le cose che sono novitate. Che sto con l'aceto, dai. Ciao, ma ancora ho visto. Tanto non mi giravo che faceva con la bocca che si arrovinava. La picchiava una lingua. Eh. La picchiava una lingua. Sì. E' aceto. E' aceto. D'eccesso questo. Detto questo, mi sembra io vi saluto, vi ringrazio, sperando che mia sorella possende che viene. Porta qualcosa. Se non bello più, allora sale. Ma come non portare più ste cazzate, perché già abbiamo fatto il video. Porta cose diverse, porta cose... Ma mi accontendo anche che... Ho un'idea. Sai cosa puoi fare? Penso che arrivi nel grande, è una bella città, ci saranno negozi. Entri in qualche negozio, ti informi. Qualche negozio americano. Porta qualcosa in americano che non abbiamo mai assaggiato qua, giustamente in Italia. E lo assaggiate. Spero che trovi un negozio... Americano. Americano. Perdonate, non c'è la novità. mi impegno su quarto, triste. Ivan, siamo con te. Se si vede fino a qua. Perzi, mamma mia, che è successo? È caduto di un bond. Non ce la posso fare. Sono rimasto troppo male. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.